La raccolta fondi Mengo per il Calcit era iniziata mesi fa. L'associazione infatti aveva messo a disposizione il nome del festival giocando con le parole e creando così magliette e gadget per la raccolta fondi a favore della realtà retina e impegnata da anni nella lotta contro i tumori e a favore dell'ospedale San Donato di Arezzo. Noi con il Mengo Festival siamo partiti durante il lockdown con delle magliette ironiche e anche un po' scherzose dedicate al periodo di chiusura e di attenzione e di tutti a casa. Queste magliette erano destinate a una raccolta fondi per il Calcit per un progetto legato all'installazione dei caschi con dei monitor e delle videocamere per supportare il lavoro del personale sanitario e è andata molto bene grazie anche all'aiuto di Conad, di Billis e Simone Concialdi che ha stampato le magliette e oggi abbiamo fatto la donazione al Calcit proprio per sostenere queste attività. Quindi è stato un momento molto bello per consegnare a loro questo ricavato di questa vendita delle magliette che sono andate comunque a ruba e quindi adesso sosteniamo questi progetti, ci fa molto piacere. Il Calcit chiaramente è un'associazione, una realtà importantissima per la città, per gli aritini, va sostenuta in tutte le sue forme e spesso c'è proprio tantissima energia quando partono le loro campagne perché proprio sono eccezionali in quello che fanno e anche noi nel nostro piccolo abbiamo dato una mano in questo senso. Abbiamo donato 1.500 euro di raccolta magliette che è una piccola cifra però nel nostro piccolo è importante e soprattutto queste magliette sono state acquistate dai giovani, dai ragazzi, da persone comunque che si interessano alla musica e quindi hanno fatto una cosa per loro ma donando poi il ricavato al Calcit.